Sabato scorso era la giornata internazionale della fibromialgia e l'associazione italiana sindrome fibromialgica come sempre ha coinvolto le amministrazioni locali per colorare di viola siti scelti di comune accordo come forma di sensibilizzazione rispetto ad un tema di grande attualità che riguarda la vita di tante persone che anche attraverso questi gesti possono uscire così dal cono d'ombra purtroppo a fronte di diversi comuni che hanno aderito e realizzato il momento di sensibilizzazione modica pur avendo garantito la massima disponibilità non ha fatto nulla e questa sottolinea la referente AISF della sezione di Ragusa Enrichetta Guerrieri è una vera e propria mancanza di rispetto anche perché diverse persone con fibromialgia si erano recate sabato sera proprio di fronte a Palazzo San Domenico per assistere all'illuminazione del sito. Il 12 maggio per noi che siamo fibromialgici ricorre la nostra come dire giornata internazionale della fibromialgia e come facciamo ogni anno da tanti anni e devo dire il comune di Modica gli altri anni lo aveva fatto e illuminiamo un palazzo un luogo particolarmente importante per la vita della città di viola quest'anno avevamo presentato tutto tutto a posto tanto che hanno risposto il comune di Ragusa e il comune di Vittoria e il comune di Scicli illuminando dei luoghi di viola siamo scese domenica sera insieme ad altre associate per poter fare la foto del comune di Modica abbiamo atteso dalle 20 e 30 alle 21 e 15 abbiamo cercato di informarci ci hanno detto che era molto strano che non fosse illuminato di viola anche perché c'era una delibera in merito che assicurava l'illuminazione. Ora qui non stiamo a fare polemiche perché vedete la malattia è la malattia noi rimaniamo malati chi non è malato rimane non malato però è importante avere dalla propria parte dalla parte dei malati anche le istituzioni ecco perché cerchiamo di coinvolgerle purtroppo per quest'anno è andata non vorrei forse non ci dovrebbe essere neppure il prossimo anno una nostra richiesta dovrebbe essere fatto tra virgolette d'ufficio a fronte di ciò però dobbiamo sicuramente annoverare il fatto che i nostri soci modicani si sono sentiti assolutamente abbandonati e siccome il nostro motto è non più invisibili dobbiamo anche constatare che per la città di Modica noi rimaniamo invisibili. Ora aggiungiamo noi è necessario fare qualcosa se come auspichiamo si è trattato di una semplice dimenticanza o altro non è comunque tollerabile aspettare il prossimo anno per un intervento concreto che mostri il volto più bello della comunità modicana nei confronti di chi quotidianamente in silenzio soffre e non merita l'oblio. Il coordinatore di Sud Chiama Nord Modica Giovanni Cavallo interviene sulla situazione legata agli strumenti economici finanziari del comune di Modica che come abbiamo già segnalato rischia di creare presenti criticità per Palazzo San Domenico. A tal proposito Sud Chiama Nord affronta un aspetto specifico quello ovviamente legato alla capacità assunzionale negli ultimi dieci anni l'organico del comune di Modica per effetto delle normative che hanno bloccato le nuove assunzioni ha subito una riduzione di oltre il 50% si è passai da più di 500 dipendenti a 200 circa. La riduzione prosegue Cavallo ha interessato ovviamente tutti i settori amministrativi con grave ed evidente pregiudizio non certo per la competenza ce ne guarderemo bene ma in termini di efficienza dell'apparato burocratico. Le risorse umane per qualsiasi organizzazione sono l'elemento fondamentale a maggior ragione per enti complessi come nel caso di un ente comune che deve assicurare servizi pubblici alla cittadinanza. Tra tutti i settori quello della Polizia Municipale con un organico ridotto all'osso rispetto a quello previsto sulla carta è sicuramente il più complicato da gestire. Le competenze della Polizia Municipale sono molteplici e diversi servizi non possono assolutamente essere tralasciati. Non scendiamo nei particolari dei compiti che svolge la Polizia Municipale ma non si può non sottolineare la percezione di insicurezza che vivono i cittadini e certamente una pattuglia che si aggiunge a quelle delle altre forze dell'ordine alleverebbe questa sensazione. Recenti normative, prosegue il coordinatore di Sud Chiamanord hanno rimosso a certe condizioni il divieto di assunzione tant'è che per fare un esempio il comune di Roma ha bandito un concorso per 750 agenti. Anche per il comune di Modica potrebbe aprirsi una fase di assunzione. Presso lente sono in servizio circa 100 ASU che attendono di essere stabilizzati e dai quali attraverso interpelli e corsi di formazione si potrebbe attingere personale da destinare alla Polizia Municipale. Ma qual è il problema? Il comune di Modica grazie alla discutibile gestione finanziaria di bilancio degli ultimi dieci anni e del notevole ritardo dell'attuale amministrazione nell'approvazione dei bilanci rendiconte previsionale 2022-2023 non può procedere alla stabilizzazione del personale ASU o a bandire nuovi concorsi. La normativa infatti chiede come condizione l'approvazione degli ultimi tre bilanci anche per procedere al calcolo del numero di assunzioni compatibile con le normative in materia di conti pubblici. Il coordinamento cittadino di Sud Chiamanord ritiene inaccettabile, ingiustificabile e notevole ritardo accumulato nell'approvazione dei bilanci, soprattutto se ciò diventa ostacolo al reclutamento di risorse umane in presenza di importantissime carenze di organico. Esortiamo senza nota di polemica, conclude Cavallo, l'amministrazione comunale ad accelerare l'iter per l'approvazione degli atti contabili, riportando l'ente nella piena facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale ASU o se necessario a bandire nuovi concorsi. L'aspetto più critico legato all'approvazione degli strumenti finanziari al comune di Modica è sicuramente, come abbiamo già segnalato, legato alla vita quotidiana dell'ente nonché al rischio di commissariamenti continui che rendono sempre più difficile l'approvazione dei vari bilanci e di questo tenore la nota di Vito D'Antona, sinistra italiana Modica, che interviene sulla questione. Con un comunicato del 7 maggio, la regione siciliana invita i comuni ancora in adempienti, spiega D'Antona, ad approvare rapidamente il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Tra questi si trova il comune di Modica. La regione precisa che dopo aver già concesso una proroga, la procedura di nomina dei commissari è in una fase avanzata ed è imminente l'intervento sostitutivo. Con successiva circolare del 10 maggio, la stessa regione siciliana informa i comuni che non hanno ancora approvato entro il 30 aprile 2024 il rendiconto dell'anno 2023 e anche tra questi c'è il comune di Modica, che qualora non si approvi lo stesso tempestivamente, anche in questo caso sarà avviata la procedura di commissariamento. Se come probabile ciò dovesse verificarsi nella considerazione che siamo bloccati all'approvazione del rendiconto 2021 avvenuta a gennaio 2024, il comune di Modica potrebbe trovarsi nella posizione di essere oggetto contemporaneamente di quattro commissariamenti per inattempimento nell'approvazione degli strumenti contabili fondamentali dell'ente. Infatti, già dal 4 ottobre 2023 il comune risulta commissariato per non aver approvato nei termini di legge il rendiconto dell'anno 2022 e il bilancio di previsione del triennio 2023-2025. L'ormai prolungata e persistente ritardo sui bilanci denota una situazione finanziaria gravissima che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio, preso atto che la Corte dei Conti, a proposito di ritardi nell'approvazione dei bilanci, scriveva che il mancato rispetto dei termini può rappresentare un elemento di valutazione per il successivo giudizio sul piano. Riteniamo non più rinviabile, conclude D'Antonio, una svolta da parte dell'amministrazione comunale che assuma la questione finanziaria come prioritaria nella sua attività amministrativa. Il di Castero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha trasmesso al Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe Laplaca è il decreto con il quale stabilisce che San Giovanni Battista è padrono principale della diocese della città di Ragusa e San Giorgio Martire è padrono eque principalis della medesima città, escluso ogni altro titolo. La Santa Sede ha risposto in questo modo in via del tutto eccezionale, stante la particolare situazione che nel tempo si è venuta a creare alla richiesta che lo scorso 11 marzo era stata indirizzata dal Vescovo che sollecitava per ragioni pastorali e storiche di dichiarare San Giorgio padrono della città di Ragusa eque principalis con San Giovanni Battista e solo a motivo della sua valutazione pastorale scrivono il prefetto cardinale Artur Roce e il segretario Monsignor Vittorio Francesco Viola che questo di Castero risponde positivamente alla richiesta e più avanti aggiungono come pastore l'ha giustamente ritenuto di farsi voce della maggior parte dei fedeli che con semplicità e senza faziosità si affidano con uguale devozione al patronato di San Giovanni Battista e di San Giorgio. Monsignor Giuseppe La Plaga ha ricevuto la comunicazione e ha informato il parroco del Duomo di San Giorgio Don Pietro Floridia. Il Vescovo fa propri sentimenti dell'intera comunità di Ragusa e gioisce con tutti i fedeli che hanno sempre mostrato sinceri atteggiamenti di fede e devozione ai patroni San Giovanni Battista e San Giorgio Martire. Una vera e propria discarica a cielo aperto in via Castella a Modica con rifiuti che potevano tranquillamente essere conferiti nei centri comunali di raccolta mobile e fisso. Evidentemente ha sottolineato l'assessore all'ecologia Samuele Cannizzaro che aveva deciso di disfarsene ha pensato male di accadastarle al ridosso del muro esterno di un'abitazione vicino ai cosiddetti carrellati di un'attività commerciale. Il mio assessorato all'ecologia prosegue Cannizzaro in collaborazione con il vice comandante della polizia locale Giorgio Ruta si è messo in moto per individuare chi aveva commesso l'atto illecito. Dopo un'attenta, veloce ed efficace indagine il comandante della polizia locale Rosario Cannizzaro mi ha comunicato che il responsabile è stato individuato e convocato presso il comando per essere sanzionato amministrativamente. Colgo l'occasione conclude Cannizzaro per invitare la cittadinanza ad evitare azioni e atti contrari alle norme dalle leggi vigenti a segnalare l'eventuale necessità di conferire rifiuti ingombranti ai nostri uffici in modo che possiamo intervenire per fornire al cittadino il servizio richiesto ed evitare azioni contrarie al vivere civile. Prosegui nei rilievi dei militari del RIS di Messina in via Manenti dove domenica sera è stato ritrovato senza vita Peppe Ottaviano, quarantenne di scicli. In particolare il RIS sta proseguendo i rilievi sulle numerose tracce ematiche rinvenute nell'abitazione dopo che il corpo del quarantenne è stato ritrovato conferito alla testa all'arcata sopraccigliare al naso. Diverse le domande che dovranno trovare risposta mentre nel frattempo il cadavere su disposizione dei magistrati che si stanno occupando del caso è stato trasferito nella sala mortuaria dell'ospedale maggiore di Modica in attesa dell'esame autoptico e dopo la ricognizione cadaverica già in atta a partire da questa mattina. Numerosi anche gli interrogatori e i familiari nella sede della tenenza dei carabinieri tesi a ricostruire le ultime ore dell'uomo rimasto solo dopo che la madre aveva raggiunto alcuni familiari nel nord Italia. Controlli anche sul cellulare del quarantenne per verificare eventuali contatti nelle giornate precedenti. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti specie per capire la dinamica dell'intera vicenda e provare a chiarire i contorni di una scomparsa che continua a mantenere ancora punti oscuri.